Amici di Barbecue Mania, eccoci tornati per un nuovo video. Oggi vado a presentarvi un accessorio, nello specifico, lo state vedendo in video, vi vado a presentare il supporto porta coperchio per tutti i barbecue a carbone in Weber. Questo accessorio lo possiamo tranquillamente utilizzare su tutta la serie di barbecue a carbone prodotti dalla Weber e, vi dirò di più, è anche compatibile con i barbecue outdoor chef. Lo possiamo usare su tutti i diametri, per cui 47 e 57 e sulle linee Combat Kettle, Original Kettle, Original Kettle Premium. È inutile acquistarlo se si possiede un Master Touch o un barbecue della serie Performer. Perché? Perché semplicemente il supporto porta coperchio lo avete già di serie, per cui è già compreso con il barbecue. Come funziona? Vedete che senza supporto il coperchio di tutti i barbecue a carbone della Weber va agganciato con un gancio presente sul coperchio sul bracere, in questa maniera qui. La cosa però può risultare abbastanza instabile e si rischia che il coperchio possa cadere ammaccandosi e si possa togliere la porcelatura, per cui in quel punto in cui si toglie la porcelatura abbiamo il rischio di avere ruggine. Per cui tirando fuori il nostro supporto dalla confezione lo andiamo semplicemente ad agganciare al nostro bracere, avendo cura di regolare queste due alette in base alla raggiatura del nostro barbecue. Dopodiché prendiamo il nostro coperchio che andremo a far scivolare all'interno del supporto. Come vedete il coperchio in questa maniera qui rimane molto più stabile e rinalzata. Evitiamo che possa cadere e rimane anche comodo da chiudere. Per chiudere il nostro barbecue non è necessario andare a togliere il supporto in quanto i suoi elementi di fissaggio a bracere sono perfettamente compatibili con il coperchio, per cui andando a chiudere lo diamo che il coperchio si incastra perfettamente senza ballare. Questo accessorio, come tanti altri accessori, li potete trovare in vendita nel nostro sito internet www.barbecumania.it. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina facebook www.barbecumania.it e vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube Barbecue Mania. Canale youtube dove troverete numerosi video su tecniche di cottura, su recensioni di prodotti, quali barbecue accessori, insomma tutto ciò che ruota il mondo del barbecue che cerchiamo di farvi conoscere e di trasmettervi la stessa passione con cui noi cerchiamo di svolgere bene il nostro lavoro. Non mi resta altro che augurare a tutti voi una buona grigliata, un caloroso saluto e ci vediamo al prossimo video.